Con Fabio Sabez incominciano ad arrivare le prime riconferme ufficiali, lo possiamo dire, per quel che riguarda la ricandidatura bis di Cosolini. Un sì da voi convinto e tutto sommato, da quel che ho capito, anche una soddisfazione per quello che è stato fatto. E una blindatura di Roberto De Carli, visto che lui voleva andare in pensione, però da quel che mi fa di capire, no, De Carli per l'esperienza che ha va avanti. Assolutamente. Allora, l'esperienza Cosolini per noi è stata, non tutto sommato, convintamente positiva. Nel senso che, nonostante le crisi di bilancio, i patti di stabilità e tutto quello che tutti conoscono, siamo riusciti in qualche maniera sia a risolvere dei problemi o perlomeno a contenerli, ma soprattutto, ed è quello che ci vede più convintamente a favore di Cosolini, si sono riusciti a gettare delle basi per un programma che durerà nei prossimi 5-10 anni, che non è un programma elettorale ma un programma politico e soprattutto economico. Ad oggi siamo a parlare che nei prossimi anni arriveranno a Trieste quasi un miliardo di euro di investimenti tra pubblici e privati. Questo significherà poter finalmente risolvere il problema della feriera, che come tutti sappiamo dalle cronache ancora è inquinante, ma non possiamo neanche negare che non vengano spesi dei soldi, soprattutto privati, e questa è una garanzia, per riuscire a risolvere il problema. Per quanto riguarda la gestione del porto, che è forse la risorsa principale di Trieste, credo che il nuovo commissario stia facendo un lavoro eccellente di risistemazione e di promozione sui mercati esteri, perché la vocazione del porto nostro è sicuramente internazionale. Abbiamo finalmente una prospettiva sul porto vecchio, che è stato oggetto di campagne elettorali per decenni, senza che mai venisse fatto niente. Ci sono investimenti privati per quanto riguarda il silos, che daranno comunque un po' di lavoro, un po' di attività e lustro alla città. Sicuramente ci sono ancora delle criticità, che però, siamo convinti, se verranno trattate con la serietà, soprattutto, riusciremo a risolvere. Per quanto riguarda De Carli, ha detto giustamente lei, la sua esperienza è indispensabile per noi, perché mettere nuovi consiglieri, se non affiancati da lui, logicamente, ad appena capire come funziona il meccanismo, considerando che abbiamo davanti al massimo 5 anni ancora, non avrebbe un gran senso. Quindi io personalmente proporrò sicuramente la ricandidatura di De Carli in questa sua posizione, per i meriti acquisiti e per le possibilità future.